Cosa è un universo parallelo? Teoristi si è venuto con l'idea di universi paralleli per esprimere perché le lezioni della fisica nel nostro universo sono la forma che stanno. Per esempio, l'università sta esplorando ora, ma questa rate di esplosione è molto lenta. Si prende circa 13 milioni di anni per la distanza tra due galassie di aumentare. Per noi fisici, questa rate di esplosione sembra essere incredibilmente lenta. In effetti, se facciamo la matematica e prendiamo in account la forma che capiamo la fisica, e in particolare come la meccanica quanta con tutti i dettagli funziona, potresti trovare che questa rate di esplosione dovrebbe essere molto, molto, molto più veloce. In effetti, dovrebbe essere 1 trillio, x 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 1 trillio, in un'universo, che veniva all'esistenza in una volta, nel Big Bang, cada uno esplosendo con la sua propria rata di esplosione e, in realtà, anche con la loro lezioni di fisica. come si esplosano, l'esplosione di esplosione e si esplosce più e più più. Quindi, invece di scegliere in una regione di esplosione in una regione di esplosione di esplosione, in realtà, questo universo diventa separato. Questo è il motivo che sono detto di essere paralleli perché non possono parlare con l'esplosione, cada uno vive la sua vita indipendente parallelo. In realtà, c'è un modo in cui potremmo vedere evidenza di universi paralleli. Se, quando tutti questi universi venivano in esistenza, un altro universo avvenuto di essere vicino ai nostri, avrebbe collato con il nostro universo. Un'esplosione avrebbe lasciato un'imprinta nella so-called Cosmic Macrowave Background Radiazione, che è un'esplosione di luce che è scelto dall'universo molto molto, molto, molto in primaverso. Un'esplosione di un'esplosione dell'universo. La collezione avrebbe lasciato una immagine di questa formazione nella cosmicrowave del basso. Descubriare questo effetto sarebbe una enorme rivoluzione. Prima, ci siamo scopri che gli universi paralleli existono e questo è abbastanza grande. un'esplosione. Ma, secondo, i universi paralleli avrebbero aiutato a raccontare perché l'esplosione dell'universo è così piccola e, in generale, perché le leggi della fisica sembra a volte so peculiar.